Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di gusci da montagna, nel particolare vediamo un attimo la differenza tra impermeabilità, idrorepellenza, hardshell, softshell Vediamo un po' tutti i vari gusci che ci sono in commercio così vi aiuto a scegliere quello migliore per l'attività che dovete fare Ma iniziamo col video La prima differenza che dobbiamo fare quando parliamo di gusci per la montagna è tra i gusci che hanno una membrana impermeabile e i gusci idrorepellenti I gusci che hanno una membrana impermeabile, lo dice la parola, hanno appunto una membrana come può essere il Goretex, il Pertex, il Future Light eccetera Quindi hanno proprio uno strato pensato che tenga fuori l'acqua, quindi uno strato appositamente studiato perché non faccia entrare l'acqua all'interno del nostro guscio Quelli idrorepellenti invece non hanno la membrana Di solito i capi idrorepellenti non hanno una membrana e come tengono fuori l'acqua tramite un trattamento DVR che viene fatto sullo strato esterno del guscio Che tende a far scivolare via l'acqua La grossa differenza è che mentre un guscio con la membrana praticamente sarà impermeabile a vita a meno che non strappate il guscio Almeno che non si rompa la membrana Un guscio invece con idrorepellenza a lungo andare l'idrorepellenza tenderà a svanire via Svanire via e quindi tenderete a bagnarvi Questo sul lungo periodo Ma invece sul breve periodo con un guscio con una membrana praticamente potete stare anche sotto la peggior tempesta che possa mai fare e non vi bagnerete mai Invece un guscio idrorepellente quando inizia ad esserci una pioggia bella battente ma bella bella forte Lì l'idrorepellenza fa qualcosa ma alla fine vi bagnerete Quindi diciamo che un guscio idrorepellente è più pensato per delle piogge molto molto fini O comunque quando davvero prendiamo acqua per pochi minuti La categoria di gusci più famosi per quanto riguarda quelli con membrana sono gli art shell Che possono esistere a due, due strati e mezzo e tre strati Poi li vediamo dopo Invece i gusci idrorepellenti diciamo più famosi sono i soft shell Che differenza c'è quindi tra un art shell e un soft shell? Un art shell come dicevamo è pensato soprattutto per quelle tempeste veramente forti Cioè quando prevediamo di prendere tanta acqua, tanta neve in cui il meteo è veramente molto cattivo Un soft shell invece è pensato più per quando prendiamo poca acqua, poca neve Al contro però l'art shell è molto meno traspirante del soft shell Quindi facendo un esempio l'art shell è meglio utilizzarlo magari quando si fa alpinismo Quando si fanno attività meno aerobiche Ovvero quando si tende a sudare meno perché la traspirabilità è minore Il soft shell invece è il guscio che utilizziamo magari per metterlo su anche tutto il giorno Faccio un esempio, si utilizza molto nello sci alpinismo Perché magari mentre si fa la salita si suda tanto e comunque capita che si abbia un po' di neve addosso Sia perché nevica magari anche un po' portata dal vento E quindi l'idrorepellenza non ci farà bagnare Però proprio quando stiamo facendo un'attività aerobica tenderà a farci traspirare di più Ma non solo, un'altra differenza che è l'art shell è pensato solamente per tenerci asciutti Basta Il soft shell invece è pensato anche per tenerci un po' caldo Questo vuol dire che il soft shell lo utilizziamo anche nel periodo invernale Proprio per tenerci caldo Mentre l'art shell non ci terrà mai caldo E se vorremmo stare al caldo dovremmo aggiungere uno strato caldo come un piumino sotto la giacca Infine l'ultima differenza è che avendo una membrana l'art shell è decisamente più rigido Anche nei movimenti ci dà un po' fastidio È comunque una giacca abbastanza rigida Il soft shell invece è una giacca in cui i movimenti sono molto fluidi, molto liberi Perché comunque non è rigida Si ha una migliore mobilità in un soft shell Per quanto riguarda gli art shell poi Troviamo tre diversi tipi di art shell Quelli ha due strati, due strati e mezzo e tre strati Innanzitutto cosa sono gli strati? Gli strati sono le parti in cui è composta la nostra giacca Abbiamo generalmente uno strato esterno che può essere comune a tutti e tre i tipi Che è proprio quello che noi possiamo toccare e vedere È molto importante questo strato anche lui il trattamento DVR per far sì che scivoli via l'acqua Troviamo poi il secondo strato che praticamente è quello dove va messa la membrana Tendenzialmente il secondo strato è la membrana E per quanto riguarda i due strati finisce qua Non abbiamo nient'altro Questo cosa vuol dire? Che la membrana spalmata su due strati andrà a diretto contatto con la pelle Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi Lo svantaggio maggiore è che quando tendiamo a sudare su questi tipi di art shell La membrana va ad appiccicarsi la pelle Quindi abbiamo proprio quell'effetto di appiccicaticcio in cui la giacca ci si appiccica alla pelle Però abbiamo anche dei grossi punti a favore Innanzitutto che pesa meno Abbiamo uno strato in meno quindi pesa meno tendenzialmente È più traspirante proprio perché abbiamo uno strato in meno E costa anche meno perché non essendoci uno strato il costo di produzione è inferiore Qui di solito li troviamo su due tipi di giacche O sulle giacche da trail running Perché comunque sono giacche dove ci va tanta tanta traspirabilità E soprattutto giacche anche dove ogni grammo fa la differenza Quindi di solito le giacche da trail running sono due strati Oppure troviamo questo tipo di costruzione su delle giacche invernali imbottite Dove la parte interna poi è comunque un due strati Ma troviamo una parte magari in piuma per proteggerci dal freddo Quindi diciamo che i piumini impermeabili che troviamo invernali Hanno una costruzione fatta a due strati Il due strati in mezzo invece ha sempre la costruzione Materiale esterno, membrana Ma poi all'interno troviamo una leggera leggera velatura Che praticamente fa sì che non si attacchi la giacca al nostro corpo Quando ci bagniamo, quando comunque sudiamo all'interno della giacca Diciamo che questa è la via di mezzo ideale tra le tre categorie Perché? Innanzitutto perché come prezzo è quello che sta in mezzo Diciamo È quello che non costa né troppo poco né troppo Per quanto riguarda la traspirabilità Anche qua sta in mezzo E anche per quanto riguarda il peso Non trovando un vero e proprio terzo strato Quello che diciamo ha un miglior rapporto tra qualità, peso e prezzo Perché tipo di attività ve lo consiglio? Diciamo delle attività come può essere il trekking, l'hiking Delle attività in cui comunque c'è possibilità di prendere acqua Ma magari non prendiamo neanche così tanta acqua Cioè non è che magari facciamo un giorno intero sotto la pioggia La terza categoria invece è l'Harshell vero e proprio a tre strati Qui cosa troviamo? Sempre lo strato esterno, sempre la membrana Ma poi troviamo anche uno strato interno Proprio uno strato costruito apposta Che innanzitutto aiuta la traspirabilità Ma comunque risulta essere il meno traspirante in assoluto È il più pesante ed è anche il più costoso Perché naturalmente come dicevo Tre strati più pesante e più costoso Perché tipo di attività vi consiglio un tre strati? Quella che mi viene in mente è l'alpinismo Solo l'alpinismo Perché innanzitutto i prezzi sono molto alti Quindi si va a cercare la miglior performance su questo tipo di guscio E soprattutto perché è come dicevo poco traspirante E tendenzialmente quando si fa alpinismo si fa molto in alto E lì si tende a sudare meno proprio perché fa meno caldo E non solo ma anche perché più si va in alto Tendenzialmente più si trovano tempeste cattive Quindi lì in quel caso davvero un Harshell a tre strati è il migliore A livello di prezzi Di solito un due strati che non abbia la parte di imbottitura invernale Sta sui 150 euro massimo 150, 250, 300 euro Un, due strati e mezzo Il tre strati tendenzialmente lo troviamo Dai 300 euro se lo trovate abbastanza scontato A prezzi veramente alti Tenete conto che alcuni con il Gore-Retex Pro O comunque membrane molto simili Arrivano a costare anche 6-700 euro Ma quando andiamo ad acquistare un capo Come facciamo a capire se stiamo acquistando un capo Con una buona traspirabilità, una buona impermeabilità E soprattutto come fare a capire di che categoria fa parte Allora per quanto riguarda la categoria Potete solamente guardare sul sito del produttore Ad occhio diciamo che si capisce poco Però di solito comunque è scritto se ho un due strati Un due strati e mezzo o un tre strati Semplicemente cercando il modello Per quanto riguarda invece l'impermeabilità Abbiamo un valore che possiamo andare a considerare Per capire se un guscio è più impermeabile o meno impermeabile Ovvero le colonne d'acqua per centimetro quadrato Supponendo di prendere un cilindro grosso un centimetro quadrato L'unità di misura che andiamo a trovare Ad esempio 20.000 colonne d'acqua Vuol dire che questo cilindro sarà alto 20 metri Cioè 20 metri d'acqua Prima che l'acqua possa entrare all'interno del tessuto Dell'arshell che si va andando ad acquistare Questo cosa vuol dire Che possiamo trovare diciamo una scala di impermeabilità Per quanto riguarda l'impermeabilità Si dice che un capo è impermeabile Quando ha almeno 5.000 colonne d'acqua Dai 5.000 ai 10.000 troviamo un'impermeabilità abbastanza scarsa 10.000 a 15.000 troviamo una buona impermeabilità 15.000-20.000 un'eccellente impermeabilità Dai 20.000 in su praticamente l'impermeabilità massima Ma in base all'attività che andremo a fare Quale grandezza di impermeabilità è meglio acquistare? Allora per il trail running diciamo che basta una tra 10.000-15.000 colonne d'acqua Per il trekking è meglio optare magari tra i 15.000 e i 20.000 Per tutte quelle attività invece in cui andiamo ad alta quota Per esempio alpinismo, scialpinismo eccetera Meglio optare per un 20.000 in su Per quanto riguarda la traspirabilità Anche qua abbiamo un valore numerico che possiamo andare a considerare Viene calcolato in grammi su metro 4 in 24 ore Questo cosa vuol dire? Vi faccio un esempio molto classico Una giacca che traspira 30.000 grammi Vuol dire che in 24 ore va a traspirare fino a 30 kg di liquido Cosa vuol dire? Che tendenzialmente in 8 ore di alpinismo Va a traspirare fino a 10 litri di sudore Quindi diciamo comunque Una giacca con 30.000 grammi sicuramente è un'ottima giacca Qui ragazzi il mio consiglio proprio spassionato è Cercate il valore di traspirabilità più alto che potete Perché veramente più è alto il valore di traspirabilità Più questa sarà traspirante Meno sarà la possibilità che ci farete la sauna Quando andrete a utilizzarla Arriviamo alle conclusioni Detto ciò Cosa vi consiglio di acquistare? Vediamolo in base al tipo di attività che dovete andare a fare Se dovete fare del trekking Io vi consiglio di acquistare un 2 strati e mezzo Soprattutto con un'impermeabilità almeno di 15.000 colonne d'acqua Questo tendenzialmente può essere già una buona giacca Sui 200-250 euro e dovreste andare abbastanza a posto Se dovete fare del trekking running meglio stare o su un 2 strati o un 2 strati e mezzo Magari anche con meno impermeabilità Come dicevo basta anche un 13-14.000 Qua l'importante però è la traspirabilità Più alta la traspirabilità e meglio è Per quanto riguarda invece l'alpinismo Vi consiglio sicuramente un Arshell 3 strati Almeno 20.000 colonne d'acqua E anche qua la traspirabilità più alta è meglio è Budget in questo caso è molto alto Dovete spendere almeno sui 400 euro Per le attività invece diciamo più invernali Per il trekking vi consiglio tendenzialmente un Softshell Per le trekking invernali in cui un pochino nevischia Magari cade un po' di neve dagli alberi Si pensa anche di andare magari anche con le ciaspole Meglio un Softshell Per l'alpinismo invece qui sicuramente un Arshell Solo un Arshell 3 strati E soprattutto in abbinata con un buon piumino Vi sconsiglio per l'alpinismo anche invernale un Softshell E voi invece che guscio utilizzate quando andate a fare le vostre escursioni Fatemelo sapere qua sotto nei commenti E io nella speranza sia stato esauramente esaustivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao